Quotacento, un tema sentitissimo dai cittadini, CGL organizza 16 sedi sul territorio per fare opera di informazione gratuita. Quali sono i contenuti specifici di questo decreto legge? Innanzitutto riguarda tutti i lavoratori pubblici e privati che al 31 dicembre 2018 hanno i due requisiti, cioè almeno 62 anni d'età e almeno 38 anni di contributi. Nel settore privato, i lavoratori appunto del settore privato che hanno al 31 dicembre 2018 62 anni d'età e 38 di contributi potranno accedere, se il decreto legge verrà convertito in legge, con la prima data utile del 1 aprile 2019. I dipendenti pubblici che invece sempre alla data del 31 dicembre 2018 hanno 62 anni d'età e 38 anni di contributi potranno venire in pensione dal 1 agosto 2019. Coloro, sempre pubblici e privati, che matureranno requisito nel triennio, 1 gennaio 2019, 31 dicembre 2021, potranno accedere alla pensione tre mesi dopo, se privati a quando maturano requisito, e sei mesi dopo se dipendenti pubblici. Sono interessati anche i lavoratori della scuola, che devono aver maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2019 e questi lavoratori della scuola potranno accedere alla finestra del pensionamento del 1 settembre 2019. Per poter usufruire della norma, quali avvertenze devono avere i cittadini? Il decreto legge è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale stamattina, entro 60 giorni deve essere convertito in legge. Quindi le dimissioni e i licenziamenti per i pubblici nel posto di lavoro andranno fatti quando avremo la certezza che nel momento in cui il decreto legge sarà convertito in legge. Nel frattempo, per questo la CGL si è organizzata nelle 16 sedi in tutto il territorio provinciale, aprendo lo sportello quota 100 e dedicando due numeri di cellulare per gli appuntamenti, devono avere l'avvertenza in questo tempo di chiarire qual è la loro posizione previdenziale, di fare un calcolo della pensione, della buon'uscita. La nostra assistenza è gratuita nelle nostre 16 sedi ed usufruendo anche con appuntamenti personalizzati.